è meglio mi si vede un po' il sorriso perché ho venuto a mettere una cosa ho detto mi fai vedere un pochettino che succede ero qui, passavo da rimedi da rimedi ragazzi no poi ho visto c'è la fermata dell'autobus e allora lì ho capito, ho capito perché non riuscivo proprio a comprendere ragionavo no e parlavo di st'affare l'isola è diciamo così per salvarti la vita vita l'isola che non c'è ma perché? questo c'è il CPT ho detto ma allora perché si ferma l'autobus e la gente almeno in tranquillità in tranquillità volendo anche no si fermano lì qui c'è il coso andando verso Vio Pisano si ferma lì la gente si ferma lì va di là laggiù c'era il passaggio pedonale poi ve lo faccio vedere laggiù c'era un altro dove arriva la macchina e insomma questo spiazzale poteva andare anche dalla parte di là no ne è bastato ne è bastato sindaco, sindaco io faccio fare a me e si è messa a fare quest'affare lì ora un attimo perché c'è la macchina allora si fa la sceneggia mi scariano dal Purma io le faccio attraverso e arrivo lì arrivo lì e mi fermo qua eh mi fermo lì buoni vai piano vieni 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 allora io posso passare è venuto e finalmente sono dalla parte di va capito dalla parte di va che c'è? il niente il niente il niente il niente c'è niente c'è vabbè ora a parte forse uno ci passa magari ho le borse in mano e va verso Asa poi vedete laggiù no proprio strinta no? ora io voglio di una cosa ma a che serve? a che serve? un l'avete fatto io vado davanti allo stabilimento dell'acqua di Ulimeto no? che non mi vedo se posso passare no? io poi mi fermo se poi mettovi passa un camion e un purma io ci cado vabbè comunque dicevo uno poteva da questa parte laggiù c'è il passaggio pedonale tranquillamente andavo a casa lì all'angolo all'angolo c'è un altro passaggio pedonale e di lì andavano anche di là ma qui a che serve sto cosa? che c'è qui? ah c'è è per andare a farla sparaci ragazzi e per andare a sparaci una volta che l'hanno messo davanti alla chiesa no? perché quello volendo alla messa c'è la messa c'è la leva ce la rimette vuol me ne pare cosa c'è? cosa c'è? Dio Dio ma sei sempre in mezzo alla strada ragazzi Erzinda è forte perché lui è bravo no Dio c'è sempre vabbè senti da Giuseffini il filtrato speciale è tutto e io pago Giuseppe Fina ormai sapete cosa faccio cosa faccio perché vuol dire potevano fare anche davanti allo stabilimento c'è tutti i parcheggi la gente si ferma là no là non c'è niente e qui e qui c'è sto a fare e va sul monte o che sa vabbè dai da Giuseffini è tutto arrivederci alla prossima iscrivetevi al canale almeno sapete sempre gli ultimi ora crisi crisi ciao 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 ciao